Mondavio si conferma terreno fertile alle rievocazioni storiche, riportando nel suo scenario medievale usi costumi e ambientazioni delle popolazioni celtiche che si stanziarono tra Romagna e Marche attorno al 380 a.C. Samhain Celtic Festival è la celebrazione di Mondavio del Capodanno Celtico. Un evento recente per il Comune, arrivata alla sua terza edizione, è presentato nella sede di Confcommercio Marche Nord per riproporre fra il 1 e il 3 novembre un suggestivo viaggio fra musica, danze e giochi celtici, oltre a laboratori e al gusto delle taverne a tema. Siamo arrivati alla terza edizione e su questo voglio davvero ringraziare l'Associazione Proloco per aver portato in un periodo dell'anno un pochino più calmo anche da un punto di vista della stagione turistica, riempendo un periodo dell'anno con meno eventi. Saranno tre giorni, la festa partirà dal venerdì sera e terminerà con la domenica pomeriggio, quindi quest'anno questa edizione si allunga anche nella stagione prendendo il ponte delle festività dei Santi. È una manifestazione a 360 gradi che coinvolge un pubblico ampio, da giovani alle famiglie, perché comunque ci sarà uno spazio kids dedicato ai bambini. Si susseguiranno nel corso della giornata, negli spazi concerto diversi gruppi e poi ovviamente ci saranno le taverne per la consumazione dei pasti. Anche il Festival Celtico di quest'anno mette insieme tante iniziative, tante attività che riguardano un po' tutte le fasce d'età. Intanto vengono alzite appunto delle taverne a cura della Proloco, poi c'è musica celtica in tutti i tre giorni della manifestazione, con tanti gruppi che si esibiranno con queste musiche tradizionali. Poi ci sono i giochi tradizionali della cultura celtica, a cui tutti possono partecipare, quindi dal tiro alla fune al lancio dei massi, insomma tante prove di forza, c'è la parte riservata ai bambini e la parte riservata agli adulti. Insomma tante iniziative che hanno comportato, ripeto, nelle precedenti due edizioni un grande successo. Quindi la riproposizione del Comune con la nuova Proloco è un fatto estremamente positivo. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS